... Venti, destra 4 per sinistra 5, tieni in ritardo a destra 3, 40 Sinistra 4 dopo, 80 Ritarda destra 3 più per sinistra 5, 80 Destra 4 meno, 0-4 frena in sinistra 3 più corta, 40 Sinistra 3 più tieni in destra 3 per ritardo a sinistra 3 lunga, 40 Sinistra 3 più tieni in ritardo a destra 3 meno lunga, in entra sinistra 4 meno, 0-4 In ritardo a destra 3 lunga lascia, in entra sinistra 4 lascia, 40 Pizzica sinistra 3 dopo, in destra 3 dopo, in sinistra 3, in destra 3 Per sinistra 4 più lunga lunga lascia, 0-3 ai pini, tieni in destra 3 per sinistra 3 più lunga dopo, 20 In ritardo a destra 4 meno lascia, 60 Destra 4 tieni per ritardo a sinistra 3 meno dopo, tieni in ritardo a bene, destra 2 più Occhio interno a centro sinistro, in sfiora a destra 4, frena su dosso, lascia in ritardo a bene Sinistra 3 lunga, chiude a secondo garage, 40 Destris lascia, frena, bivio, destro 2, in sinistra 4 lascia, chiude 3 Lascia sotto e stringe, poi destra 4 lunga lunga, 20 Destra 3 più, 20 Ritardo a bene, sinistra 3 meno, gira il terzo diri, 40 Destra 4 in Pizzica sinistra 4 per Destra 4 lunga lascia, frena, 0-3 40 Destra 2, gira stretta, lascia sopra Questo è un 2, gira stretta, lascia sopra, 20 Ritardo a sinistra 3, gira, 20 Destra 5 tieni per sinistra 2, stretta Destra 4 lascia, 0-4 più lunga 80 Sinistra 2, gira In Destra 4 In Sinistra 4 tieni, ritardo a poco Destra 4, 0-4 In Sinistra 5 frena, per destra 3 più lunga E lascia 0-3 più al palo 40 Ritardo a sinistra 4 meno lunga 80 Ritardo a destra 4, lascia i biri E attenzione, ritardo a 0-3 meno meno al cespuglio interno 80 Ritardo a sinistra 3 In Destra 4, 0-4 meno lungo 60 Destra 5 in Sinistra 5 lascia frena Chiude 2 sopra Ganna 20 Destra 5 no Chiude 3, Alpini, storto 20 Ritardo a sinistra 3 più Per Ritardo a bene Destra 3 più lunga Chiude le piante 4 più 200 Destra 5 meno In Accendo a sinistro 100 Ed era a sinistra 4 più Non tagliare 200 destri Destra 5 300 Al palo là in fronte Frena Sinistra 4 in Subito Vivio Destro 2 Non tagliare In Sinistra 5 40 Destra 3 100 Palo Sinistra 3 più Sporco 60 Destra 4 più Lascia frena Chiude 2 Più Sfringe 20 Sinistra 2 Occhio interno 80 Sinistra 5 meno o meno 40 Ritarda Tornante destro 4 40 Accendo sinistro 60 Ritarda Tornante sinistro 4 80 Ritarda Destra 3 meno stretta Ok 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 Com'è Com'è